Musica Nel Tarantino tante le cerimonie in onore dell'unità nazionale delle forze armate, tutti hanno avuto in comune la partecipazione degli studenti a Monteparano a deporre una corona, sono stati i bambini a deporare una panchina bianca per le vittime del lavoro. Incentivare i medici e potenziare la medicina territoriale, altrimenti il pronto soccorso di Taranto resterà gravemente sovraffollato. Il consigliere regionale, vicepresidente della Commissione Sanità Di Gregorio del PD, scrive al direttore generale ASL. Da Taranto a New York per realizzare un sogno in diretta da USA vi raccontiamo la storia di successo del 24enne che si sta facendo notare dalle star a stelle strisce e collabora con i suoi disegni con importanti aziende internazionali. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione di Antenna Sud. Siamo al telegiornale di Taranto e provincia, una giornata importante, quella odierna per la unità nazionale, ma soprattutto un ringraziamento corale alle nostre forze armate. Avete seguito la nostra diretta di questa mattina a Bari, una presenza importantissima, il capo dello Stato, ma poi celebrazioni un po' in tutta la nostra regione, come vi stiamo documentando, non è mancata anche quella nel capoluogo ionico. Partiamo da qui e poi un focus su alcune cerimonie più particolari che si sono svolte nella provincia. Si celebrano due principi fondanti della nazione in occasione del 4 novembre, giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate, la coesione ed il ricordo delle azioni eroiche compiute dalle forze armate per affermare la pace. Non un bene consegnato e duraturo nel tempo, ma una costruzione quotidiana per garantire a ciascun individuo di poter godere dei propri diritti. Il messaggio complessivo che viene da questa giornata è di speranza, ma anche di forza, come hanno fatto i nostri patrioti, per difendere e costruire la pace in Europa e in tutto il mondo. In piazza della Vittoria a Taranto è il ricordo del sacrificio di uomini e donne della storia in favore della pace e prosperità del paese intero ad essere ripetuto più volte, un fatto per nulla consolidato poco lontano da noi. Una giornata per ricordare, una giornata per ringraziarli, ma una giornata per essere anche consapevoli del ruolo delle forze armate moderne in questo territorio. Il messaggio che parte anche dalla città bimare assume un significato chiarissimo, costruzione e difesa della pace. La celebrazione della giornata delle forze armate per noi ha tutto un significato chiarissimo, cioè quello della difesa della pace e della costruzione della pace. Con la buona volontà, la collaborazione di tutti, l'educazione delle nuove generazioni si può dare una risposta positiva ed essere noi costruttori di pace. Momenti nei quali è consolidata la forte unione tra chi serve la patria in divisa e i cittadini. C'è una forte unione, una stretta unione tra chi serve la patria in divisa e i cittadini del futuro che in qualche modo prendono il nostro esempio e ai quali cerchiamo di dare dei buoni ideali da perseguire. Il 4 novembre celebra e la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti ricorda ciò che è stato e quanto importante sia la responsabilità di ciascuno. E tra le diverse cerimonie in provincia a Leporano è stata inaugurata una panchina bianca per le vittime del lavoro e del dovere invece i bambini, protagonisti a Monteparano. La comunità di Leporano celebra la giornata dedicata all'Unità Nazionale e alle Forze Armate ci sarà anche la consegna di una panchina in ricordo delle vittime del dovere. Sì, sono due momenti molto importanti per la nostra comunità perché la nostra amministrazione è sempre stata presente quando si tratta di onorare e ricordare i caduti sul lavoro quindi oggi con questo gesto inaugurare una panchina nella nostra villa comunale vogliamo fare questo. Abbiamo voluto considerare anche quest'anno dopo la pandemia di organizzare questo evento in collaborazione con la scuola qui abbiamo l'assessore alla pubblica istruzione il presidente del consiglio e la delegata Rosa Greco e insieme abbiamo voluto proprio far sì che questo evento forse finalizzato anche ai ragazzi in modo che l'educazione, educare i giovani a capire che cosa sia questa giornata è fondamentale. Un lungo corteo partito dall'Istituto Comprensivo Gemelli si è diretto nella villa comunale dove è stata collocata una panchina bianca in ricordo delle vittime del lavoro, del dovere e del volontariato. Presente alla cerimonia anche Cosimo Semeraro presidente del comitato 12 giugno. Io spero che tutto questo possa servire quello che non abbiamo fatto noi per i nostri figli e i nostri nipoti quello che cominciano a fare loro dei bambini per i loro figli e i loro nipoti. Le scolaresche, protagoniste a Monteparano nella cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale per celebrare il 4 novembre, hanno intonato l'inno nazionale, deposto una propria corona al monumento ai caduti ed ancora loro hanno preso parte ad un consiglio comunale monotematico con cui hanno conferito la cittadinanza al milite ignoto. Per loro i saluti dell'onorevole Giovanni Maiorano. Come dicevo prima ai ragazzi, queste sono giornate particolari che vanno attenzionate e gli va dato il giusto merito. Io sono molto per il ricordo, sono molto anche per le tradizioni, ma questa non è una tradizione, è una giornata che va dedicata alla memoria e soprattutto al ricordo di chi si è sacrificato per poi darci la possibilità di ottenere, di vivere in libertà così come lo viviamo oggi. Sindaco, bambini protagonisti in questo 4 novembre. Sì, oggi si è deciso di fare un consiglio monotematico e abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di partecipare. Qual è il messaggio che è stato trasmesso ai bambini? Il messaggio principale è stato quello di conoscere il passato perché senza conoscere il passato per noi non c'è futuro. Quindi quello di condannare le guerre e celebrare sempre la pace. La cronaca adesso i carabinieri sono intervenuti a San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 73enne per i presunti reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi nei confronti della moglie. Si tratterebbe dell'ennesima lite tra i coniugi. L'uomo le avrebbe causato lesioni alla testa lanciandole un cellulare. Secondo la denuncia della donna attaggiamenti violenti che si ripetono fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L'uomo si trova adesso ai domiciliari in un'altra abitazione fuori da San Giorgio Ionico. Ancora ingombranti e abbandonati per le strade di Taranto continua la nostra battaglia. Stavolta diverse sono state le segnalazioni che abbiamo raccolto in questo servizio. In ingombranti e abbandonati in strada sempre e dappertutto la battaglia della telegiornale di Antena Sud contro l'incuria e il degrado continua e non ci stancheremo mai di farla. Soprattutto grazie alle vostre continue segnalazioni che dimostrano purtroppo il malcostume di alcuni cittadini che con una buona dose di menefreghismo e strafottenza si dimenticano delle normali regole di convivenza comune e si liberano di tutto nelle vie al fianco dei cassonetti come se niente fosse come se fosse un fatto normale dover fare una gymcana mentre si passeggia. È un fenomeno comune sin troppo e non c'è differenza di quartiere di situazione e di realtà sociale. Stavolta prendiamo in esame due esempi via Lago di Varano in zona Salinella e via Generale Messina nella vecchia circoscrizione tra i carriari e Battisti. mobili, divani materassi abbandonati in gran quantità persino tazzine e bicchieri perfettamente intatti indizio di case svuotate in gran fretta forse per qualche trasloco fatto privatamente il marciapide in piena città come discarica o come immondizzaio deturpando l'immagine della città e il buonsenso una questione di educazione civica innanzitutto quando si potrebbe almeno chiamare il numero gratuito 800 013 739 di Chimambiente per il ritiro ingombranti ma noi non ci arrendiamo. C'è un altro problema che resta il sovraffollamento dal punto di vista della sanità del pronto soccorso di Taranto per questo un consigliere regionale nonché componente della commissione sanità della regione Puglia ha scritto al direttore dell'ASL con alcuni consigli Lunghe attese al pronto soccorso dell'ospedale Santissima annunziata di Taranto per fronteggiarle e magari ridurle fino ad evitarle arrivano alcune proposte in una lettera aperta che ha come destinatario il direttore generale dell'ASL di Taranto Gregorio Collacecco dal consigliere regionale PD Vincenzo Di Gregorio la condizione di costante sovraffollamento è purtroppo un dato di fatto con il quale devono confrontarsi i pazienti personale medico e sanitario quattro punti essenziali ad iniziare da un sistema incentivante che permette ai medici di rimanere e anche al personale sanitario di rimanere al pronto soccorso perché sempre più si hanno notizie di medici sanitari che scappano dal pronto soccorso per vari motivi il secondo punto è quello della medicina di territorio quindi un primo approccio un primo filtro che eviterebbe un afflusso molto importante al pronto soccorso stesso il terzo punto è la gestione dei codici verdi presso i punti di primo intervento del 118 una certa parte di posti letto presso l'ospedale si sono riservati a chi arriva dal pronto soccorso il primo filtro è dunque la medicina territoriale delle cure primarie potenziare il ruolo delle postazioni fisse medicalizzate del 118 già punti di primo intervento ed ancora più posti letto riservati alle urgenze del pronto soccorso in ogni reperto ospedaliero insomma per il consigliere regionale vicepresidente della commissione sanità le possibilità di abbattere in maniera significativa l'affollamento del pronto soccorso ci sono e possono essere attivate in tempi relativamente veloci ladri in azione nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi nella sede della biblioteca Marco Motolese in via Lissipo al quartiere Tamburi di Taranto gli autori avrebbero trafugato oltre ai computer anche numerose arredie su pelletti di poltrone sedie lampade l'impianto acustico usato per le manifestazioni formato da casse audio e tutto ciò che serve persino il tappo di un lavandino l'unica cosa che non ha tirato l'attenzione dei ladri a quanto pare il notevole patrimonio librario che come vedete è intatto Carmen Galluzzo Motolese presidente dell'associazione naturalmente ha sottolineato questo grave gesto rappresenta la nostra biblioteca ha detto un presidio culturale nel quartiere malgrado questo duro colpo andremo avanti non è tutto sempre per la cronaca intorno alle 13 poco dopo le 13 di oggi a Taranto in pieno centro in corso Umberto in particolare scontro fortunatamente lieve tra due auto un'auto che transitava da via Duca degli Abruzzi sarebbe andata incontro a quella della polizia locale un ferito lieve ma notevoli rallentamenti per il traffico in un orario già di punta adesso abbiamo un contenuto esclusivo per voi infatti siamo in grado di collegarci in diretta con New York perché c'è un giovanissimo pensate appena 24 anni che si sta facendo notare dalle star internazionali soprattutto quelle a stelle strisce grazie alla sua arte si tratta di un creator realizza delle illustrazioni ma non soltanto il suo nome è Mattia Bari allora Mattia intanto buon pomeriggio spiegaci in sintesi che cosa hai realizzato sappiamo che sei stato proprio in queste ultime settimane alla New York Fashion Week un appuntamento importantissimo e poi vorremmo sapere anche i tuoi prossimi obiettivi in chiusura un consiglio a coloro i quali soprattutto i giovani i tarantini ti ascoltano perché sei arrivato fino a New York per realizzare il tuo sogno una passione quella dell'arte buon pomeriggio Mattia ciao Gianmarco buon pomeriggio sono artista musico e performer e lavoro con il mio brand per grandi progetti creativi sono nato a Taranto e fin da piccolo ho sempre manifestato grande passione per l'arte utilizzandola al meglio che potevo per il mio territorio principalmente mi sono poi spostato in un primo step a Milano dove mi sono laureato presso IED l'Istituto Europeo di Design apprezzato poi in quel periodo da grandi marchi come L'Oreal Lux dove creai immagini business e mascotte per un loro progetto mi sono poi spostato a Londra dove ho fondato il mio brand Mattia Bari Brand per l'appunto con un team di persone che ha creduto in me fin da subito cominciando quindi con le prime foto promozionali del brand e struttura creativa a Londra ho creato Fake Pop un personaggio goliardico che è diventato l'icona del brand e che ha fatto il giro del mondo fino agli Stati Uniti dove mi trovo adesso con il suo merchandising con alle spalle Londra sono poi sbarcato a New York City con uno stile diciamo artistico imprenditoriale dove mi sono subito sentito a casa e sono stato ospite della New York Fashion Week 2022 trasformando tutti gli invitati in versione cartoon diciamo che ciò mi ha aiutato molto ad avere grande visibilità agli occhi di personaggi americani più svariati diventando anche una sorta di personaggio pop il mio prossimo obiettivo è di lavorare a grandi progetti creativi a Manhattan e quello che dico ai miei coetani è di non mollare se tu puoi credere in qualcosa di grande puoi ottenere qualcosa di grande grazie a Mattia Bari grazie anche per questo messaggio in chiusura noi ci siamo collegati con lui e per questo lo ringraziamo per la sua disponibilità in diretta pensate da New York negli Stati Uniti dove attualmente sono precisamente le ore 9 e 28 minuti quindi lui da poco si sta insomma apprestando ad iniziare la sua giornata lavorativa ci è piaciuto portarvi questo esempio nel nostro telegiornale proprio affinché possano spronarsi anche i nostri giovani talenti intanto in bocca al lupo a Mattia Bari andiamo avanti adesso la cultura agli spettacoli grande attesa Taranto per l'inizio della stagione concertistica del trentennale dell'orchestra della Magna Grecia si parte domani il 5 novembre è tutto pronto sabato 5 novembre alle 21 al teatro comunale Fusco di Taranto prendi il via la stagione artistica dell'orchestra della Magna Grecia in programma Beethoven 3.0 con l'eccezionale Mariangela Vacatello alla pianoforte e l'orchestra diretta dal maestro Maurizio Lomartire inizia la stagione dei 30 anni con un cartellone tutte stelle con nomi altisonanti per eseguire classici successi contemporanei in chiave sinfonica come ricorda il direttore artistico Piero Romano trent'anni di stagioni concertistiche immaginate quanti artisti hanno calcato il palcoscenico dell'orchestra della Magna Grecia quanti hanno lasciato un segno nel nostro cuore nella nostra memoria e quanti di questi torneranno a affiancarsi all'orchestra proprio in questa stagione concertistica da Serena Autieri a Noa Stefano Bollani Tony Arley Antonella Ruggero e poi grandissimi artisti come Josef Calleia Giuliana Gianfaldoni che per noi è veramente la nostra stella la nostra stella di Taranto che sta portando il nome di Taranto in tutti i palcoscenici più importanti al mondo e Claudio Santamaria Valentina Lisizza con cui apriamo la stagione con il nostro direttore principale Gianluca Marciano direttore principale da quest'anno ma la cosa più bella è potersi divertire con la musica e questo l'orchestra della Magna che ce lo sa fare è 14 e 30 minuti puntuale inizia adesso il nostro telegiornale dedicato a Brindisi e Lecce i titoli dopo 78 anni è rientrata a Mesagna la salma di un soldato morto a 24 anni in un campo di concentramento tedesco cerimonia coincisa con quella del 4 novembre è stata accompagnata dal comune sino al cimitero e tumulata nella tomba di famiglia scontro frontale nella notte sulla strada statale 275 Maglie Leuca all'altezza di Surano a perdere la vita uno dei due conducenti un ragazzo di 30 anni il 35enne Angelo di Coste brutalmente picchiato da una banda di giovani davanti alla sua abitazione racconta l'aggressione o ha avuto paura di morire lo avete ascoltato dalla nostra copertina una storia incredibile dopo 78 anni un soldato che perse la vita giovanissimo a 24 anni rientra nella sua Mesagna in una giornata oltretutto quella di oggi il 4 novembre è così già di per sé densa di significato ascoltate Mesagna era così all'inizio degli anni 40 quando Francesco Fortunato Palumbo poco più che 20enne partì per la guerra e non vi fece più ritorno morendo in Germania in un campo di concentramento nazista 78 anni dopo la sua città lo riaccoglie tributandogli gli onori di una straordinaria passerella per le vie del centro accompagnato da centinaia di scolari festanti che sventolano il tricolore escoltato da un picchetto della brigata San Marco e da militari dell'esercito sulle note della leggenda del Piave Francesco morto a 24 anni sepolto dal 1944 nel cibitero dei soldati italiani ad Hamburgo torna a casa nel giorno più importante per chi veste la divisa il 4 novembre la festa dell'unità nazionale e delle forze armate le spoglie del soldato sono state prima poste sotto il monumento dedicato ai militari mesagnesi caduti in guerra qui dopo i saluti istituzionali è stata celebrata una funzione religiosa alla presenza dei componenti dell'associazione combattenti e reduci una cerimonia contro ogni guerra Francesco Fortunato Palumbo torna a Mesagne dopo 78 anni era sepolto in un cimitero tedesco vittima di una guerra senza senso le guerre non hanno mai un senso morto in un campo di concentramento dove uomini pianificarono la morte di altri uomini ora torna nella sua Mesagne e ci ricorda attraverso questo viaggio che la guerra è una barbarie senza senso le spoglie di Francesco Fortunato Palumbo sono state poi scortate dal picchetto d'onore sino alla tomba di famiglia dove verranno sepolte accanto ai genitori Ciro e Maria Carmela e alla sorella Venere Letizia che ha sperato fino all'ultimo di poter assistere al ritorno a casa dell'amato fratello mai dimenticato e adesso abbiamo seguito per voi e ve le proponiamo le cerimonie per la giornata dell'unità nazionale tra il Brindisino e la città di Lecce l'Italia ripudia la guerra dice la nostra Costituzione e soprattutto le forze armate hanno compiti esclusivi di difesa dei nostri confini quando vanno all'estero come ho anche evidenziato nel mio discorso sono stimatissime nel mondo perché sono portatrici di pace quest'anno abbiamo voluto dare maggiore visibilità evidenza al concetto di unità di cui poi le forze armate sono grandi custodi proprio in un momento anche difficile sia a livello internazionale che interno per motivi che noi tutti conosciamo e invitando le scuole cercando quindi di essere veramente di dare questo segnale di unità e di coesione sociale che in questo momento è fondamentale e questa ricorrenza ci offre lo spunto quindi di riflessione e di coesione dal punto di vista sia istituzionale che sociale che economico anche a Lecce le massime cariche istituzionali e politiche si sono riunite in occasione della ricorrenza del 4 novembre giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate e quest'anno la cerimonia ha avuto luogo presso il sacrario dei caduti con la deposizione della corona e la santa messa un momento di profonda riflessione dovuto anche al luogo che ha ospitato quest'anno la cerimonia il cimitero storico del comune di Lecce infatti ha fatto da sfondo alla cerimonia religiosa ed ha ospitato tutte le associazioni che hanno voluto portare il proprio saluto e la propria presenza in un momento nel quale si è voluto onorare la nostra nazione e le sue tradizioni e adesso la cronaca un drammatico impatto frontale tra due auto in Salento è successo sulla strada provinciale 275 all'altezza di Surano la strada statale 275 Maglieleuca continua ad essere teatro di tragedie stradali l'ultima si è consumata nella notte all'altezza di Surano un drammatico impatto frontale fra due auto una Fiat Punto e una Opel Adam che non ha lasciato scampo ad Alessandro Santoro residente a Zollino per lui non vi è stato nulla da fare altre due persone sono rimaste ferite e sono state condotte all'ospedale Panico di Tricase una con codice giallo e l'altra con codice rosso per effettuare rilievi sono intervenuti i carabinieri mentre l'arteria stradale chiusa per alcune ore è stata messa in sicurezza dalle LC Sicurezza Stradale Ambientale la salma su disposizione del PM di turno presso la procura della Repubblica di Lecce Alberto Santa Caterina è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale di Lecce ulteriori accertamenti tra i quali test tossicologico e alcolemico sono stati eseguiti sul conducente della seconda vettura un 22enne di Nociglia ferito gravemente le lesioni riportate nello scontro sono piuttosto preoccupanti ed è ricoverato nel reparto di reanimazione soltanto 24 ore prima a pochi chilometri di distanza si era verificato un altro incidente uno scontro fra un'auto e un'ambulanza con paziente a bordo che ha richiamato l'attenzione del presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva che aveva ribadito come la questione della 275 è una questione non più rinviabile ora che le procedure per conto dei comuni sono concluse non si indugi più e si prosegua con l'iter da troppo tempo il territorio attende risposte certe dalle istituzioni e non possono essere certo le lentezze burocratiche a fermare le nostre azioni così come già fatto in passato afferma Minerva la provincia di Lecce farà sentire la propria voce nelle sedi competenti non c'è più tempo dobbiamo tornare adesso alla pagina del 4 novembre con le cerimonie che arrivano dal territorio perché è pronto il servizio che riguarda Fraccavilla Fontana un giorno importante perché ricordiamo il sacrificio di tantissimi di tantissimi soldati che si sono sacrificati per la patria importante soprattutto il fatto di tramandare i valori di coraggio patriottismo e resilienza soprattutto alle nuove generazioni ed è molto importante che oggi siamo presenti tutti questi ragazzi a questa bellissima manifestazione Stiamo a Francavilla Fontana ma cambiamo decisamente argomento il 35enne Angelo Di Coste che è stato brutalmente picchiato da una banda di giovani davanti alla sua abitazione racconta ai nostri microfoni l'aggressione dice ho avuto paura di morire paura di morire paura di non farcela Angelo il 35enne brutalmente aggredito a Francavilla Fontana con calci e puni in strada ha scelto la via del coraggio di denunciare i suoi aggressori ma anche di raccontare quanto è accaduto perché possa aiutare la comunità a comprendere a capire a condannare lo abbiamo incontrato nello studio del suo avvocato Domenico Attanasi sono sceso dalla macchina ho preso il borsone mi stavo dirigendo verso casa e ho svoltato l'angolo di casa per comunque dirigermi verso la porta e mi hanno subito aggredito erano nascosti dietro un furgoncino e ho cercato comunque di difendermi di parare i colpi perché mi hanno subito aggredito con dei pugni però poi dopo alle spalle sono intervenute altre tre persone che mi hanno sferato calci e pugni facendomi cadere per terra e poi quando sono andato per terra ho subito altri calci altri pugni di una violenza inaudita io non ho mai visto una cosa del genere e l'unica cosa che comunque mi è venuta in mente è stata quella di proteggere il viso il naso e i denti perché ho pensato questa sera mi ammazzano Angelo la sera di mercoledì è stato picchiato da un gruppo di ragazzi tra questi anche un giovane che aveva sgridato all'interno dello spogliatoio di un campo da calcio da cui la vendetta da qui quell'insopportabile rigurgito di terribile violenza sono stato fuori da Francavilla per dieci anni ho vissuto per dieci anni a Roma lavoravo sempre di notte ho fatto il cameriere prendevo mezzi pubblici la notte giravo per Roma per rientrare a casa comunque di notte e non mi è mai successa una cosa del genere bisogna comunque sensibilizzare un po' l'opinione pubblica e diciamo bisogna dare una svolta in positivo un'incredibile testimonianza triste che ha raccolto per noi Michele Giurlaro invece Maria Teresa Carrozzo ha scovato un'altra storia perché tra i protagonisti della trasmissione RAI soliti ignotti c'è anche Fulvio Rizzo un uomo che lotta per la riabilitazione sociale dopo aver scontato una pena in regime 41 bis come ha pensato di partecipare a un programma nazionale ha fatto un casting o l'hanno chiamata loro la RAI ha contattato mia figlia come imprenditrice balneare e poi da lì hanno cercato il parente misterioso che come ha detto un articolo di Antenna Sud non ero tanto misterioso è stato protagonista in queste ore di un programma nazionale sulla RAI ma chi è Fulvio Rizzo Salentino sottoposto a regime speciale dal 92 al 2014 oggi è un uomo libero che ha saldato il suo debito con la società pagando onerosi interessi dopo aver scontato sia la colpa e poi la pena il pregiudizio non ti libera mai del tutto stare in carcere non è una cosa bella con quale condanna? la condanna è concorso in omicidio su quella storia non si possono o si devono accettare le sentenze ma quella è una sentenza che io continuo a rispettare ma che non ho mai accettato non ne vale la pena a fottersi una vita dietro le sbarre sarebbe opportuno pensare ad una società sostenibile dove persino gli scarti non si devono buttare ma si recuperano come faccio io in cucina sono già nove anni che sono libero è molto più difficile affrontare l'occhio del pregiudizio che a volte le chiavi delle sbarre qual è il ricordo più bruciante che ancora è in testa rispetto a quegli anni? uno stato che dal 92 al 97 non si è fatto mancare niente come dalla tortura fisica a quella psicologica uno stato non deve essere vendicativo deve indicarti la strada del riscatto restiamo in qualche modo in tema parliamo del carcere di Brindisi chiediamo al ministro Nordia un intervento immediato al fine di tutelare l'operato della polizia penitenziaria all'interno delle nostre carceri così il SAP è il sindacato autonomo della polizia penitenziaria a poche ore dai due episodi che si sono verificati all'interno del carcere di Brindisi il primo in ordine di tempo si è registrato giovedì 3 novembre quando nel penitenziario del capologo Messapico è stato aggredito a un poliziotto l'agente sarebbe stato colpito con una testata da un detenuto finendo in ospedale con la frattura del setto nasale nella notte tra il 3 e il 4 novembre la tensione nel carcere di Brindisi è continuata a salire quando un detenuto ha dato fuoco ad un materasso la cella è stata invasa dal fumo immediato all'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme evitando che l'incendio si propagasse oltre fortunatamente non si registrano feriti il sindacato torna quindi a puntare il dito verso il sovraffollamento delle carceri pugliesi che supera il 50% a fronte del 10% nazionale con una grave carenza di poliziotti ecco perché dicono si chiede un intervento deciso e immediato del governo nazionale trovate questi altri servizi notizie sempre aggiornate sul nostro sito antennasud.com adesso come sempre spazio al nostro TG sportivo arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social grazie a tutti